L'orribile peccato di bestemmia di Sant'Alfonso Maria delle Guori Tutti i peccati sono abominati da Dio, ma più propriamente il peccato della bestemmia. Il peccato della bestemmia deve chiamarsi l'abominazione di Dio, perché quantunque tutti i peccati mortali sono di disonore a Dio, non di meno gli altri peccati disonorano Dio direttamente col trasgredire la sua legge. Ma la bestemmia disonora direttamente Dio con il maledire il suo santissimo nome. Così scrisse San Giovanni Crisostomo che nessuna colpa inasprisce tanto il Signore quanto il sentire il suo nome dagli uomini bestemmiato. Nulla acerba così tanto Dio come quando il suo nome viene bestemmiato. Lasciate dunque che in questo giorno vi faccia vedere in due punti. Primo, quanto sia grave il peccato della bestemmia. Secondo, con quanto rigore Dio lo punisce. Consideriamo la gravità di questo peccato. Primo, il blasfemo offende lo stesso Dio. Che cos'è la bestemmia? È un detto ingiurioso contro Dio. Così la definiscono i dottori della Chiesa. Con chi se la prende l'uomo quando bestemmia? Se la prende direttamente con Dio. Come esclama Sant'Efrem. Non temi, o bestemmiatore, che ti scende al fuoco dal cielo e ti divori? E non si apra sotto di te la terra e ti assorbisca? Gli stessi demoni tremano al nome di Gesù Cristo, dice San Gregorio Nazianzeno. E tu non temi di ingiuriarlo? Il vendicatore se la prende con un uomo suo pari, ma il bestemmiatore, quando bestemmia, pare che voglia vendicarsi con Dio stesso, che fa o permette quella cosa che gli dispiace. Vi è una grande differenza tra l'offendere il ritratto del re e l'offendere la persona del re. L'uomo è immagine di Dio, ma il bestemmiatore offende lo stesso Dio, dice Sant'Atanasio. Chi offende la legge del re pecca, ma chi offende la stessa persona del re commette delitto di lesa maestà, onde non gode grazia ed è punito con castighi orrendi. Che deve dirsi di chi bestemmia e ingiuria la maestà di Dio? E' così enorme dunque il peccato della bestemmia, che gli stessi santi pare che non abbiano animo di pregare per un bestemmiatore. Giungono alcune bocche sacrileghe a bestemmiare chi li mantiene. Dice San Giovanni Crisostomo, Dio ti dona tanti benefici e tu lo maledici? Tu stai con un piede all'inferno perché se Dio non ti mantenesse in vita per sua misericordia, saresti dannato per sempre. E tu invece di ringraziarlo, nello stesso tempo che egli ti fa del bene, lo bestemmi? Dice il Signore nel Salmo 54, Se tu mi ingiuriassi nel tempo che ti castigo, più lo soffrirei. Ma tu mi maledici nel tempo che io ti sto beneficando? O lingua diabolica, ti si grida San Bernardino da Siena, che cosa mai ti trasporta a bestemmiare il tuo Dio e ti ha ricomprato col suo preziosissimo sangue? Alcuni arrivano a bestemmiare espressamente Gesù Cristo, quel Dio che è morto in croce per loro amore. Se noi non avessimo da morire, dovremmo desiderare di morire per Gesù Cristo, per rendere qualche piccola gratitudine a un Dio che ha dato la vita per noi. Dico piccola gratitudine perché non vi è paragone tra la morte di una misera creatura con la morte di un Dio. E tu, invece di amarlo e benedirlo, lo maledici. Dice Sant'Agostino, Gesù Cristo è stato flagellato dai giudei, ma non di meno viene ancora flagellato dalle bestemmie dei falsi cristiani. Vi sono stati anche alcuni che hanno bestemmiato o ingiuriato la Beata Vergine Maria, questa buona madre, che tanto ci ama e prega sempre per noi, ma tali scellerati sono stati puniti orribilmente da Dio. Ad esempio, narra il Surio, nel giorno 7 di agosto, che un empio bestemmiò la Beata Vergine e poi con un pugnale ferì la sua immagine, che stava in una chiesa, ma uscito che fu da quella, un fulmine lo colse e lo ridusse in cenere. L'infame eretico Nestorio, che similmente aveva bestemmiato indotti altri a bestemmiare contro Maria Santissima, dicendo che non era vera madre di Dio, morì disperato con la lingua mangiata dai vermi. E chi è questi che bestemmia? Un cristiano, uno che ha ricevuto il santo battesimo, nel quale la sua lingua è stata in certo modo consacrata. Scrive un dotto autore che sulla lingua di chi ha da battezzarsi si pone il sale benedetto e poi questa lingua dovrà diventare una spada che trapassi il cuore di Dio, come dice San Bernardino. La lingua dei bestemmiatori è come una spada che ferisce il cuore di Dio. La bestemmia racchiude la più grande malizia, perciò dice sempre San Bernardino da Siena che nessun peccato contiene in sé tanta malizia quanto la bestemmia. E prima di lui lo disse anche San Giovanni Crisostomo, ricordando che la bestemmia è il peccato che attira maggiori castighi e supplizi in questa vita e nell'altra. Lo stesso scrisse San Girolamo dicendo che ogni altro peccato paragonato alla bestemmia è meno. E qui bisogna avvertire che la bestemmia contro i santi e delle cose dei giorni santi e delle sante feste liturgiche sono della stessa specie delle bestemmie contro Dio perché, come insegna Sant'Omaso d'Aquino, siccome l'onore che si fa ai santi e alle cose o ai giorni santi si riferisce a Dio, così l'ingiuria che si fa ai santi ricade contro lo stesso Dio che è la fonte della santità. Quindi la bestemmia è un peccato massimo contro la religione. Riprendendo il detto di San Girolamo, la bestemmia è più grave del furto, più grave dell'adulterio, dell'omicidio. Tutti gli altri peccati, scrive San Bernardino da Siena, provengono o dalla fragilità o dall'ignoranza, ma questo peccato della bestemmia proviene dalla propria malizia perché procede da una mala volontà e da un certo odio concepito contro Dio. Così il bestemmiatore si rende simile ai dannati i quali, come dice Sant'Omaso d'Aquino, ora non bestemmiano con la bocca poiché non hanno corpo, ma bestemmiano con il cuore, maledicendo la divina giustizia che li punisce. E soggiunge che è credibile che dopo la risurrezione dai morti, siccome i santi in cielo anche con la voce lo diranno Dio, così i dannati nell'inferno con la voce lo bestemmeranno. Giustamente dunque, un saggio autore chiama la bestemmia linguaggio di inferno, dicendo che il demonio parla per la bocca dei bestemmiatori, così come Dio parla per la bocca dei santi. Così può dirsi ad ogni bestemmiatore, tu sei del paese dell'inferno, e vero discepolo di Lucifero, mentre già parli con il linguaggio dei dannati. Scrive Sant'Antonio che i dannati nell'inferno non si impiegano in altro che in bestemmiare e maledire Dio e adduce a tal proposito il testo dell'Apocalisse. Gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli, invece di ravvedersi per rendergli omaggio. Soggiunge Sant'Antonio che chi ha il vizio di bestemmiare già appartiene al numero dei dannati perché già praticano sulla terra il loro mestiere. Si aggiunge alla malizia della bestemmia la malizia dello scandalo che porta con sé la bestemmia dato che la bestemmia è un peccato che per lo più si commette esternamente e in presenza di altri. San Paolo Apostolo riprendeva i giudei perché con i loro peccati erano causa che i pagani bestemmiassero il nostro Dio ed eridessero la sua legge. Come dice San Paolo Apostolo nella sua lettera ai Romani al capitolo 2 Ora quanto più colpevoli sono i cristiani che con le loro bestemmie inducono gli altri cristiani ad imitarli? Come va io domando che in certe province non si sente alcuno che bestemmia e se vi è è raro e in altre province poi regna la bestemmia in modo che può dirsi quello che diceva Dio per bocca del profeta Esaia capitolo 52 Tutto il giorno essi bestemmiano il mio nome sicché per le piazze per le case per le città e per i quartieri non si sente altro che bestemmiare ciò avviene perché gli uni imparano a bestemmiare dagli altri i figli dai genitori i garzoni dai padroni i fanciulli dai grandi specialmente in certe famiglie pare che si lasci per eredità la bestemmia il padre bestemmiatore e perciò poi bestemmiano i figli i nipoti succedono in questa orribile eredità gli altri discendenti oh padre disgraziato invece di insegnare ai figli tuoi a benedire Dio vuoi insegnare loro a bestemmiare Dio o i suoi santi e tu dici ma io li riprendo quando li sento bestemmiare ma che servono queste tue riprensioni quando tu dai loro male esempio con la tua bocca per carità padre di famiglia non bestemmiare mai ma specialmente non bestemmiare mai davanti ai tuoi figli perché questo è un peccato così grave che non so come Dio potrà più sopportarti e quando senti che qualche volta il tuo figlio bestemmia riprendilo aspramente anzi come dice San Giovanni Crisostomo fracassagli la bocca che così santificherai la tua mano certi padri se il figlio non fa qualche servizio a tempo lo stroppiano di bastonate se poi lo sentono bestemmiare i santi se ne ridono oppure non parlano racconta San Gregorio Magno che un fanciullo di cinque anni figlio di un nobile romano era solito di bestemmiare il nome di Dio e il padre non lo riprendeva un giorno egli vide il figlio assalito come disse poi da certi uomini neri il figlio cercò di rifugiarsi dal suo padre ma quelli che erano tanti demoni tra le braccia del padre l'uccisero e se lo condussero all'inferno ora consideriamo i castighi che vengono attirati dalla bestemmia nell'inferno chi ha peccato di bestemmia ha dei castighi speciali guai ai bestemmiatori e guai eterni poiché scrive Tobia nel suo libro a capitolo 13 che tutti quelli che bestemmiano saranno condannati dice Dio per bocca di Giobbe nel suo libro a capitolo 15 non sono io che ti condanno all'inferno ma la tua stessa bocca con la quale hai ardito di maledire me o i santi miei e quella bocca che ti condanna poveri bestemmiatori continueranno i disgraziati a bestemmiare nell'inferno per loro maggiore pena poiché le stesse bestemmie ricorderanno sempre loro che per la bestemmia sono perduti in eterno ma non solo nell'inferno anche in questa terra sono castigati i bestemmiatori nella legge antica erano lapidati da tutto il popolo nella legge nuova poi dall'imperatore giustiniano erano condannati a morte San Luigi re di Francia li castigava con il far loro traforare la lingua e marcare la fronte con un ferro infuocato e se alcuno dopo ciò tornava a bestemmiare stabilì che morisse giustiziato molte leggi escludevano i bestemmiatori come infami dal fare testimonianza di giudizio e come si ha dalla costituzione di Gregorio XIV prima erano esclusi anche dalla sepoltura per le bestemmie vengono le carestie i terremoti la peste e le epidemie ti lamenti poi o bestemmiatore che fatichi stenti e ti vedi sempre pezzente e dici non so che cosa sia che mi vedo sempre in miseria qualche maleficio ci sarà sulla mia famiglia che maleficio non sai che cosa sia è la maledetta bestemmia che tieni in bocca questa ti farà stare sempre maledetto da Dio e povero quanti esempi funesti poi potrei narrarvi di bestemmiatori che hanno fatto una orribile morte ricorda il padre segneri che nella guascogna due uomini che avevano bestemmiato il sangue di Gesù Cristo poco dopo furono uccisi in una rissa e i cani li sbranarono in piccolissimi pezzi nel Messico un certo bestemmatore essendo ripreso rispose voglio fare peggio di prima quella stessa notte gli si trovò cucita la lingua sotto il palato e così il disgraziato se ne morì senza dare segno di penitenza narra Dresselio che uno bestemmiando restò cieco di tutti e due gli occhi un altro bestemmiando Sant'Antonio uscì una fiamma dall'immagine dello stesso santo e lo bruciò vivo narra il Sarnelli nel suo libro contro la bestemmia che in Costantinopoli avendo uno bestemmiato contro Dio subito dopo cominciò a lacerarsi le carni come un cane erognoso e così morì narra il canti pratense di un uomo chiamato Simeone da Tornaco che dopo avere costui bestemmiato gli si stravolsero gli occhi e caduto a terra muggiva come un bue e così muggendo spirò nel Mercurio Gallicano al libro 10 si narra che un certo uomo condannato alla forca che si chiamava Michele nel sentirsi stringere la gola dal capestro proruppe in una bestemmia e così morì ma che avvenne di più quando spirò gli cadde il capo dal busto e gli restò la lingua di fuori pendente dal collo nera come un carbone ci sono molti altri casi terribili che si possono leggere nel detto libro del padre Sarnelli ma per concludere dimmi o bestemmiatore se qui ci stai che meritavi da questa maledetta bestemmia tu non ne ricavi gusto dice San Bellarmino questo è un peccato senza gusto non ne ricavi guadagno perché come ho detto la bestemmia è quella che ti fa stare sempre pezzente non ne ricavi onore gli stessi bestemmiatori tuoi simili quando bestemmiano ne hanno orrore e ti chiamano bocca di dannato dimmi perché bestemmi tu rispondi padre è l'abitudine ma che ti pare l'abitudine si può scusare davanti a Dio se un figlio bastonasse il padre e poi dicesse padre mio compatiscimi perché ci ho fatto l'abitudine lo compatirebbe il padre dici che bestemmi per la collera che ti fanno pigliare i figli la moglie il padrone ma come la moglie il padrone ti danno collera e tu te la pigli con i santi che colpa ne hanno i santi essi pregano Dio per te e tu li vuoi bestemmiare e tu ancora dici ma il demonio allora mi tenta e se il demonio ti tenta fa come faceva un certo giovane era questi tentato di bestemmia andò a consigliarsi con l'abate il quale gli disse che quando il demonio in ciò lo tentava rispondesse e perché voglio bestemmiare quel Dio che mi ha creato e mi ha fatto tanto bene io voglio sempre lodarlo e benedirlo e così il demonio lasciò di tentarlo quando hai qualche collera mancano parole al dire senza che bestemmi dici allora Signore aiutatemi Maria Santissima datemi pazienza se per il passato hai fatto l'abitudine a bestemmiare ogni mattina da oggi innanzi quando ti alzi rinnova il proposito di farti forza a non bestemmiare in quel giorno e poi recita tre Ave Maria alla Santissima Vergine che ti ottenga la grazia di resistere alle tentazioni che avrai siano sempre lodati benedetti ringraziati e amati i Santissimi nomi di Dio di Gesù e di Maria O nostro Dio noi crediamo noi vi adoriamo noi speriamo noi vi amiamo vi domandiamo perdono per coloro che non credono non vi adorano non sperano e non vi amano O nostro Dio noi crediamo noi vi adoriamo noi speriamo noi vi amiamo vi domandiamo perdono per coloro che non credono non vi adorano non sperano e non vi amano O nostro Dio noi crediamo noi vi adoriamo noi speriamo noi vi amiamo vi domandiamo perdono per coloro che non credono non vi adorano non sperano e non vi amano Grazie.